Salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, il giorno dopo, Mila Juventus 0 a 1 è sicuramente un giorno dopo in cui ci si sveglia felici, contenti per una vittoria molto molto importante per tre punti che sono fondamentali per il proseguio del campionato, che mettono la Juventus a soli due punti dalla vetta questa Juventus, tanto criticata in quest'inizio di stagione ma che adesso si trova già a soli due punti dalla vetta e comunque ragazzi era davvero davvero importante riuscire a vincere a Milano dopo la sosta, davvero una vittoria insperata ne abbiamo già parlato, sicuramente c'è stato un pizzico di fortuna, ma quello di cui voglio parlare in questo contenuto sono le parole post partita del tecnico del Milan, Piole, perché si fa un pianto epocale circa le ammunizioni, ne andiamo a parlare insieme, ma prima di cominciare questo video vi chiedo un like al contenuto, iscrizione al canale se non l'aveste ancora fatto, tanto è gratis, non vi costa nulla e azionate la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrò a produrre su questo canale. Allora ragazzi innanzitutto come al solito quando non riesco a registrare da casa con tutte le comodità mi scuso per la location ma purtroppo oggi è una giornata molto molto intensa non posso fare altrimenti anzi sto sfruttando un momento diciamo tranquillo per condividerlo con voi. Parliamo appunto come detto dell'argomento del video e parliamo di Pioli perché Pioli nel post partita si va a focalizzare sulla prestazione del Milan che secondo lui è una prestazione positiva che avrebbe dovuto portare ad un parigi. Adesso partiamo da questo, io anche su questo è vero il Milan rimane in 10 ma perché il Milan rimane in 10? Rimane in 10 perché ha cominciato la partita in 10 o rimane in 10 perché un suo calciatore fa un errore madornale che porta poi l'arbitro a dover estrarre il cartellino rosso inevitabilmente? E questo è il discorso, il Milan mi sembra che parta 11 contro 11 con una Juventus che ha Danilo in difesa che manca, l'attacco completamente rimaneggiato perché giocano gli due attaccanti di riserva Ken e Milik e soprattutto a centrocampo sappiamo le defizioni per motivi extracampo che ci toccherà sostenere per tutta la stagione quindi se è anche vero che al Milan mancavano Teher Hernandez e il portiere Mignan tra l'altro ottimamente sostituito da Mirante che secondo me fa due o tre miracoli nel finale davvero eccezionali quindi ha poco da lamentarsi di questo perché il Milan poi si ritrova a dover naturalmente giocare un secondo tempo più di sacrificio a dover rinunciare alla fase offensiva quasi totalmente perché rimane in 10 perché Ciao commette un errore clamoroso si fa scappare via Ken anche se c'è stato sicuramente qualcuno che è andato ad adombrare sospetti circa l'espulsione che non ci doveva essere ragazzi se quella non è espulsione io non so quando si va a configurare il doxo nel calcio quello è fallo da ultimo uomo e non c'è niente da fare ci sono tutti gli elementi la distanza dalla porta la direzione dell'azione ultimo uomo la distanza dell'ultimo della difendente più prossimo diciamo oltre a Ciao quindi ragazzi davvero stiamo parlando del nulla ma soprattutto va a dire che secondo lui la gestione dei cartellini è sbagliata perché Gatti dice che fa 22 falli in realtà Gatti fa soltanto 5 falli Gatti viene ammonito giustamente perché blocca una ripartenza e quindi viene giustamente ammonito ma ciò che mi fa incazzare se tu vai a parlare di un arbitraggio a parte che quando hai giocato con la Roma hai detto che non parlavi degli arbitraggi perché in quel caso ti era andata bene col Genoa sei stato muto non hai parlato del fatto di aver segnato dopo un tocco di mano e invece stasera vieni a parlare di arbitraggio perché perché hai perso tra l'altro il secondo scontro diretto consecutivo due ne hai giocati due ne hai persi ma lasciamo stare questo lasciamo stare questo se tu parli dell'arbitraggio e parli delle ammunizioni dovresti avere dei dati alla mano e i dati quali sono la Juventus subisce 5 ammunizioni su 20 falli questo che vuol dire che ogni 4 falli la Juventus subisce un'ammunizione e abbiamo continuiamo ad avere la media più alta del campionato tra numero di falli commessi ed ammunizioni ed anche ieri sera Mariani a mio modo di vedere nel secondo tempo ha cambiato il modo di arbitrare perché nel primo tempo lasciava molto più correre nel secondo tempo fischiava tutti i falli e a un certo punto ammoniva qualsiasi giocatore della Juventus sembrava proprio che volesse riequilibrare numericamente la partita e allora ragazzi questo mi fa girare i maroni anche se poi quando poi vado a sentire Pioli che si lamenta dell'arbitraggio si lamenta dell'arbitraggio di cosa se a un certo punto tutti gli uomini intorno alle A o quindi l'esterno la mezza alla destra che era appunto McKennie e il difensore braccetto di destra Gatti erano tutti e tre ammoniti tant'è vero che Gatti viene sostituito proprio in ragione del fatto che essendo tutti e tre ammoniti quello che rischiava di più diciamo per posizione geografica in campo era appunto Gatti poi anche a livello di passo è il meno veloce dei tre quindi era quello che rischiava di più nel confronto con le A o però dire che Gatti doveva essere ammonito prima cioè non è che un giocatore ogni fallo debba essere ammonito Gatti commette cinque falli e viene ammonito non è che è uscito dal campo senza ammonizione è uscito dal campo con un'ammunizione io non vedo negli altri falli di Gatti la possibilità di ammonirlo se poi ti dobbiamo dare le ammonizioni perché te hai commesso una cazzata perché il tuo difensore centrale è un pollo si fa saltare da Moise Kett come un pollo e lo mette giù commettendo fallo da ultimo uomo e compromettendoti la partita e poi tu pretendi che l'arbitro te la vada a riequilibrare e ti faccia portare il risultato in porto un pochino come ha fatto ammarassi col Genoa e no a questo punto poi non sono d'accordo più caro Pioli a questo punto amico mio hai torto sei nel torto e dovresti analizzare meglio quella che io analizzerei meglio anche sentendo diciamo molti tifosi del Milan che sono d'accordo con me e la gestione dei campi perché io ad esempio non avrei non avrei tolto Pulisic avrei cercato di giocare con un 4 4 1 non avrei neppure tolto Giroud anche perché se metti Jovic che è un attaccante che ha caratteristiche diverse ma che poi secondo me in questo momento è anche proprio un ex giocatore a far reparto da solo in avanti non fai più un tiro in porta e vai a puntare tutto sull'estro di Leao che deve riuscire a fare tutto lui poi Leao si sa com'è è uno che gigioneggia tutte le partite poi ti indovina un paio di un paio di numeri e fa un numero clamoroso nel primo tempo quando riesce a scappare via riesce a mettere la palla a centro fa una grande un grande movimento giù però ragazzi se poi noi abbiamo un grande portiere che ti para davvero fa una gran parata ma ti para l'unico tiro in porta che hai fatto tutta la partita puoi pretendere perché a questo punto se ho un portiere che pago 7 milioni di euro l'anno posso anche pretendere che mi faccia una parata un pochino dal coefficiente di difficoltà un pochino più alto detto questo la Juventus nel secondo tempo non ha fatto una partita eccezionale si sa com'è fatta la Juventus quando è il momento di gestire la palla e di attaccare però ha creato tante occasioni ha avuto tante occasioni da gol poteva sicuramente chiudere con un risultato più rotondo perché se ieri sera la Juventus avesse vinto 2 o 3 a 0 nel secondo tempo c'era poco da dire perché anche i numeri se andate a vedere semplicemente gli expected goal ti spiegano già come il Milan ha un expect goal di 0.23 quindi naturalmente il solo tiro di Giroud mentre la Juventus a livello di expect goal ha superato abbondantemente l'1.50 quindi naturalmente il risultato è assolutamente meritato da parte della Juventus che è stata certamente fortunata per come si è messa la partita per il fatto che diciamo ha potuto giocare il secondo tempo interamente gli ultimi 5 minuti del primo in 10 contro 11 però ragazzi però ragazzi non andiamo ad adombrare sempre polemiche arbitrali quando si parla di Juventus perché mi sembra che voi vogliate sparare sulla chiesa caro Pioli io penserei di più al campo è poco a fare questo tipo di chiacchiere perché ti ritrovi ad allenare quella che è una grande squadra ti sei ritrovato a giocare quello che è a mio modo di vedere il vero derby d'Italia sei l'allenatore del Milan voglio dire queste pagliacciate te le puoi anche evitare che non succede mica niente fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e fino alla fine contro tutte e tutti sempre e comunque forza Juventus